Ciao a tutti, oggi guardiamo un po' come funziona l'elettricità, bene, se io sposto questa simpatica lì qua, vedrete questa lampina accendosi perché passerà corrente, in questo momento non è collegata quindi non passa corrente. Come possiamo vedere abbiamo anche un certo carico, l'anterometro ci dice che si suona, bene, la seconda parte, questa parte qui abbiamo queste lampadine in parallelo, adesso è tutto spento perché queste non sono collegate, bisogna collegare la prima, passa corrente e la lampadina accende, la seconda passa corrente e la lampadina accende, lo scollego e tutto si spegne. In questo momento non c'è niente di acceso, questo è scollegato, questo vuol dire che la corrente passa di qui, però non passa di qui perché la lampadina è spenta. In questo momento c'è questo passaggio qui, io lo scollego e la lampadina mi si accende, come potete vedere. Sì ora, vi ringrazio a tutti per l'ascolto e un bacione.